Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conade di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conade di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conade di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Buonasera amici di Insieme a Canestro e benvenuti alla sesta puntata di questa fortunata trasmissione giunta ormai alla quarta stagione sul canale 80 di Rossini TV, visibile in tutta la regione. Ma vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, ovunque nel mondo, in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare ed anche sul sito internet di Rossini TV. Grazie innanzitutto ai nostri sponsor che sostengono la trasmissione, quindi Conad Montecchio, Macchini ceramiche e Banca di Pesaro. E passo a presentarvi gli ospiti di questa sera. Io sono veramente contenta questa sera di avere in studio il coach della Carpegna Prosciutto, Maurizio Buscaglia. Grazie, grazie a te, buonasera. Grazie coach, perché questo lo voglio dire, anche se immagino che lui non voglia, ma io lo dico lo stesso, perché secondo me è facile venire in una trasmissione in diretta dopo la vittoria di Milano, ma è molto più difficile invece accettare di venire dopo una sconfitta come quella di Napoli. Quindi questo ti fa onore e siamo fieri che tu abbia accettato l'invito. Vi ringrazio dell'invito, ma è molto volentieri, sono venuto veramente molto volentieri. E con noi questa sera c'è un collega, un giornalista, Matteo Fattori, di Sportando e da poco il nuovo corrispondente da Pesaro della Gazzetta dello Sport. Quindi ti facciamo le congratulazioni per questo nuovo incarico. Grazie, Betta, grazie di avermi invitato. Passo un attimo alla parola a Giovanni Zidda. Anche quest'anno sarà lui a indicarvi come mettervi in contatto con noi per porre domande, ma anche per rispondere al contest che lanceremo fra poco e che mette in palio due biglietti per la partita di domenica prossima, 12 novembre, contro la Bertram Tortona. A chi risponderà per primo? Buonasera, Betta, buonasera agli ospiti in studio. Come sempre, 370-366-7210 oppure potete commentare nella diretta Facebook di Rossini TV. Ricordiamo che la partita di domenica, 12, sarà live anche su D-Max Canale 52. Andiamo con il contest. In palio due biglietti per la partita di domenica contro Tortona. Maurizio Buscaglia ha disputato due finali scudetto alla guida di Trento. Vogliamo sapere in quali anni e contro quali squadre le ha disputate. Bene, allora torniamo a noi e cominciamo commentando la partita appena passata. Sapete che conducendo una trasmissione di giovedì bisogna stare un po' in mezzo tra quello che è successo e quello che andremo ad affrontare. Quindi dobbiamo tornare su questa partita anche se ancora un po' ci fa male al cuore perché gli highlight di WL Napoli che scorrono sui vostri schermi ci ricordano questa partita che poi tutto sommato era anche cominciata bene. e quindi come tutti gli allenatori immagino che avrai vivisezionato poi la gara per capire dove è girata, dove è svoltata, dove avete sbagliato quel parziale di 17-0 all'inizio del secondo quarto quando avevate ancora 5 punti di vantaggio ha proprio cambiato la partita. Cosa è successo coach? Anche noi siamo in mezzo, come dici tu, essendo un giovedì perché abbiamo lavorato proprio su questo aspetto. Come mi è capitato di dire dopo la partita non c'è assolutamente dubbio sul fatto di aver perso, di aver perso nettamente e di aver avuto di fronte una squadra che ha interpretato e ha giocato meglio. Poi ho aggiunto una cosa e di giovedì la aggiungo ancora di più perché all'interno di una partita che non siamo riusciti a interpretare bene anche proprio come posizioni in campo, come connessione tra i giocatori c'è stato un inizio abbastanza complicato nell'identificare il loro gioco che però ci ha permesso comunque, segnando, di tenere botta. Io parlo di punteggio, non parlo di performance perché eravamo già bruttini però noi eravamo avanti. Quindi nel momento in cui abbiamo incominciato a decifrare molto meglio il loro gioco tant'è vero che statisticamente, che se conta poco, ma di game plan in quel momento non hanno segnato noi purtroppo in quel momento lì, nonostante fossimo in vantaggio e avessimo superato questo momento qua abbiamo perso fondamentalmente da nostri tiri aperti e da un paio di palle perse un momento in cui proprio non correvamo indietro un momento in cui abbiamo aperto loro il campo e loro sono molto bravi in cui il solco a livello di punteggio e di inerzia e di fiducia è stato aperto veramente in contropiede è stato aperto a campo aperto nonostante le rotazioni, il time out, quello che vuoi non siamo riusciti mai ad arginare anche oltre vi ricordate un paio di tiri presi dall'angolo quindi veramente in fondo al campo proprio parlo di spazi in cui i giocatori sopra la linea di tre punti potevano coprire maggiormente il contropiede e si è stati scavalcati proprio come i lanci lunghi infatti non sono derivate solo da palle perse ma anche proprio da tiri sbagliati che però dovevano essere coperti io quello non lo dico per trovare una scusa proprio non c'è niente da dire perché poi entriamo in un discorso molto più importante che è mancato da noi dico solo che a livello di inerzia e di rottura della partita siamo andati nell'intervallo sotto di 10 e abbiamo aperto quella giocata lì voi considerate che su 24-25 punti di contropiede 16 li abbiamo subiti che non eravamo ancora in bonus e quindi anche interrompere la giocata facendo fallo magari si rischia però facendo fallo noi avevamo proprio uomini eravamo un team non completamente connesso tra i giocatori e questo non ci ha permesso di giocare come volevamo giocare poi il secondo tempo o meglio gli ultimi 16 minuti non posso commentarli tecnicamente perché qui noi abbiamo una regola a cui non siamo stati bravi in cui non siamo stati bravi si lotta fino alla fine tu infatti l'hai detto questa nostra squadra non mollerà mai però è la prima partita forse è la prima partita, fammelo dire, hai ragione poi brutti, belli, quello che vuoi ma non ci si può permettere davanti a un palazzetto del genere per il lavoro che facciamo per la piazza che rappresentiamo di non combattere fino all'ultimo pallone questa è una roba che la ridico anche di giovedì e so che poi chi critica ha ragione a farlo anche se la rassegnazione può arrivare però non bisogna smettere di lottare lo abbiamo anche visto in una partita ben approcciata persa ben approcciata vinta perché ci è capitato di tutto ben approcciata hanno recuperato abbiamo vinto anche in un campo difficile ma anche in una partita non completamente ben approcciata mi riferisco a Scafati abbiamo recuperato abbiamo fatto e noi siamo usciti comunque dal campo sconfitti con un altro tipo di assolutamente umore, atmosfera e partecipazione credo che anche perché probabilmente la gran parte della tifoseria comprende che dovendoci salvare o giochiamo così o giochiamo così ma anche perché quella partita con Scafati ha comunque regalato delle emozioni le emozioni della rimonta le emozioni del supplementare invece questa dopo un po' non ha regalato più nessuna emozione poi la puoi raccontare puoi sempre dire dove abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato lì e abbiamo però avuto una grande forza fisica, tecnica, mentale di cuore di recuperare questo ci ha permesso di andare a Milano dicendo non possiamo noi partire così e non siamo partiti così ora io capisco anche l'avversario importante come è successo a Milano ma quando Milano è rientrata eravamo in vantaggio ci ha recuperato fine primo tempo canestro sulla sirena probabilmente 9000 persone che dicono ecco dai adesso è fatta noi non abbiamo ma non si è mosso un sopracciglio quindi vuol dire che questo questo nostro modo di deve avere una maggiore consistenza nella linearità capito nella continuità ti faccio una domanda che potrebbe sembrare anche banale la settimana dopo la vittoria con Milano c'era troppa euforia? no 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 al di là di quella che arriva da fuori perché tutti ricevono miliardi di messaggi tutti vengono intervistati però onestamente dentro c'era ovviamente una normale soddisfazione ma poi è chiaro che la mente umana e l'inconscio ogni tanto può ma voglio dire se parliamo di quello non va bene cioè giustifichiamo una cosa che non va bene non esiste noi la domenica dobbiamo lottare fino all'ultima goccia di sangue poi io personalmente avevo avuto questa reazione dai giocatori sempre con calma azione dopo azione in questo caso abbiamo fatto veramente molto fatica senti Matteo ti coinvolgo in questa discussione ti chiedo dopo sei giornate anche se ancora è molto presto però comunque un pezzetto di campionato se ne è già andato che opinione ti sei fatto di questa VL cosa ti piace invece cosa non ti ha convinto ancora chiaramente a giudicare dalle partite prettamente quindi prettamente dal risultato si potrebbe dire un campionato fin qui on divago in realtà come abbiamo detto è veramente la prima partita quella contornata in cui la squadra molla molla nelle altre comunque c'è sempre stata una reazione anche nelle sconfitte ricordiamo che abbiamo lottato fino all'ultimo abbiamo perso per un tiro finale a Brescia quindi ci siamo sempre stati lì con la testa quindi ovviamente è preoccupante l'ultima partita ma l'ha detto anche il coach io invece voglio chiedere però una cosa a questo proposito al coach siamo tu hai parlato di canesti subiti quando ancora non eravamo in bonus quindi c'è stato proprio un momento di blackout anche mentale dal punto di vista difensivo però io ho notato che noi siamo una delle ultime squadre per farli commessi tra tutte quelle della serie al contrario siamo la prima squadra per farli subiti come mai c'è questa disparità secondo te noi andiamo ne subiamo e questo ci deve dare anche molta confidenza e forza per attaccare ancora di più perché possiamo subirne ancora di più andare in lunetta ancora di più produrre punti ancora di più per quanto riguarda quel discorso che fai dei falli la nostra difesa madonna quando hai detto molla madonna mia è una cosa che no ma è una roba che non deve esistere per quello ti dico che da questo punto di vista poi io capisco anche questo un divago che dici però in realtà è una ricerca della consistenza che è molto alle volte difficile questa cosa ci potrebbe dare un atteggiamento difensivo migliore noi dobbiamo aiutarci moltissimo perché paghiamo contro determinate squadre soprattutto quelle che abbiamo affrontato finora di un livello di un certo livello anche su certi accoppiamenti su certa fisicità su certo atletismo noi dobbiamo aiutarci il problema di domenica non è stato soltanto aver diciamo a un certo punto non essere stati più forti come vogliamo ma non ci siamo molto aiutati e noi non possiamo prescindere da questo punto tanto che prendiamo dei rischi facciamo delle scelte tecniche e tattiche che sono proprio secondo noi insomma che devono essere fatte in questo momento di crescita della squadra è normale avere un po' di questi up and down è normale nella ricerca della consistenza ma la consistenza non va cercata solo perché più o meno le partite sono tutte va proprio cercata dalla nostra parte quindi difendere sempre duro avere sempre un maggiore controllo dei rimbalzi avere sempre la capacità di correre e non correre in base alle situazioni ci vuole un po' di lavoro insomma duro ecco ecco siccome Matteo hai toccato proprio un tema che avevamo preparato e prego Andrea di mandare in onda la schermata delle statistiche abbiamo guardato un po' le statistiche della Lega Basket trovando dove la VL celle quindi questa cosa che prima nei falli subiti anche contro l'opinione di tanti tifosi che dicono che gli arbitri ce l'hanno con Pesaro questo dimostra che alla fine invece se ti sai comportare in un certo modo in campo gli arbitri ti riconoscono anche gli sforzi che fai e la squadra sfrutta anche tanto bene questi falli subiti perché è prima nei tiri liberi in tutta la Serie A ed è anche quinta negli assist con 18 di media che mi sembra una statistica interessante perché dà l'idea di una squadra che è comunque altruista che gioca insieme eccetera la squadra è molto altruista la squadra si passa il pallone no no si passa eh no perché alle volte per non esserlo devi avere i giocatori capaci di non esserlo ma nella maniera giusta per essere incisivi offensivamente ma la produzione offensiva ci può essere questo fatto dei falli subiti e dei tiri liberi è una cosa che sottolineo perché noi comunque abbiamo un gioco anche perimetrale dovuto al fatto che non abbiamo grandissimi penetratori attaccanti del ferro quindi stiamo piano piano cercando di capire che passare la palla dentro o passare la palla in zona del campo più vicino a canestro è come lavorare penetrando perché falli sul tiro da tre non lo fai col palleggio lo fai col passaggio ma vai più vicino a canestro quindi dobbiamo cercare piano piano di sviluppare questo gioco che in questo momento era completamente sulle spalle di Totè e che adesso potrebbe cominciare a essere ma non perché c'è Mokevicius ma anche perché piano piano qualche altro giocatore ci può andare è importante l'idea degli assist perché è condivisione del pallone infatti io su questo discorso di domenica è giusto che tu dica preoccupante però non lo sono nel senso che lo dico piano tanto non siamo mica in televisione non lo dico a nessuno però in realtà cioè ci deve essere proprio la consapevolezza se dovesse essere stato necessario pestare questa brutta partita per capirlo vabbè però Andrea se puoi reinserire l'immagine invece volevamo guardare un attimo le voci negative insomma a rimbalzo lo sappiamo che ci sono dei problemi la squadra è quattordicesima anche nei rimbalzi offensivi e quindi ha meno opportunità meno secondi tiri ed è tra le più stoppate diciamo questo può essere il sintomo di una squadra poco atletica allora sono tre voci diverse se le vogliamo analizzare parto dalla seconda nei rimbalzi offensivi noi siamo ovviamente perché non siamo una squadra di rimbalzisti quindi è normale che la voce rimbalzi tutta insieme ma il rimbalzo offensivo è anche crescere nella mentalità offensiva cioè bisogna andarci ci sono giocatori che sono abituati a essere vicino a chi ci andava ora ci devono andare e quindi ci sono delle posizioni precise da cui andare rischiando qualcosina nella transizione difensiva ma cercando di avere delle seconde opportunità chiaro che è anche legata a quanto segni però eh perché ci sono state partite in cui abbiamo avuto delle percentuali altissime per cui il rimbalzo d'attacco non si giocava per quanto riguarda quello difensivo è il cruccio dall'inizio ed è una cosa sulla quale lavoriamo tanto il rimbalzo è anche nel DNA del giocatore ovviamente in questo Mochevicio ci può dare sicuramente una mano ma anche in quella che è un po' di organizzazione difensiva a proteggere non è tanto distante da posizioni sopra di noi si tratta veramente di lavorare su due tre possessi che molto spesso sono stati 50-50 balls palle vaganti tutti che la toccano e loro che la prendono che ci potrebbe permettere di alzare leggermente quella statistica l'altro cartello invece l'abbiamo fatto sui giocatori individualmente e abbiamo Totè l'onnipresente nella nostra squadra primo realizzatore della squadra con 16,5 punti di media nono assoluto in Serie A primo nella valutazione primo nel tiro da due secondo nei rimbalzi primo nei falli subiti terzo nei tiri liberi insomma ti ricordi quando quest'estate dicevano chissà se Totè accetta di rimanere che c'è Buscaglia che a Napoli non lo faceva giocare e poi lui ti ricordi anche la mia faccia però che ho fatto non vi preoccupate io conosco ci ho parlato ci conosciamo e lui infatti nell'intervista che ha fatto con me al Corriere dello Sport ha detto che avete avuto una conversazione molto profonda e che adesso il dialogo è la base del vostro rapporto sì ma poi sì ma poi l'abbiamo continuata nel senso che credo che in questo momento della sua crescita bisogna anche entrare un po' sottopelle no? alle cose e quindi c'è c'è questo c'è un un piccolo rinculo all'inizio guarda è come che prima mi hanno chiesto di Visconti perché ha sbagliato qualche tiro da fuori sta difendendo si sta applicando il suo uomo fa più fatica lui corregge sempre meglio la posizione è in crescita da quel punto di vista è probabile che per un tiratore ci sia un momento di minore realizzazione la ritroverà ma quello su cui sta crescendo è quello Leo altrettanto al di là del minutaggio e tutto ma voglio dire il nostro centro titolare sta andando molto bene credo che possa migliorare molto nei rimbalzi assolutamente come predisposizione posizione ne abbiamo parlato di questo però ora la sua è una sfida con la continuità credo che sia fondamentale perché può veramente diventare una stagione importante per lui continuando e l'altra schermata poi dopo Matteo ti faccio intervenire l'abbiamo chiamato l'arma silenziosa perché secondo noi di questo giocatore forse si parla un po' poco ma in realtà lui sta facendo bene perché è il terzo marcatore della squadra il primo nel tiro da tre come percentuale e terzo nei rimbalzi quindi da una mano anche dove non si pensava forse 4-5 di media vuol dire quasi come totè terzo negli assist e secondo nei tiri liberi e quinto nei falli subiti e terzo nella valutazione potrebbe essere sfruttato un po' di più questa poi mi fai uno screenshot e me la mandi che gliela faccio vedere così gli alziamo l'autostima perché lui è un giocatore di grandissimo talento lo ha sempre avuto è un giocatore che ha quelle cose che avete appena descritto ora grazie al lavoro incredibile del nostro preparatore fisico grazie al lavoro dello staff grazie al lavoro in palestra il giocatore è fisicamente diverso da quando è arrivato è un giocatore che ha quelle armi lì è silenzioso perché è di raccordo lui è un buonissimo passatore è un buon giocatore sa conosce il gioco lo anticipa sa passare la palla e per noi avere un collante tra piccoli e lunghi o interni è molto importante e lui lo può fare la sua sfida personale visto che stiamo parlando di qualcosa del genere adesso è la continuità deve riuscire ogni partita ad avere un certo tipo di consistenza i giocatori che sono abituati a essere importanti nelle squadre anche lui nei suoi campionati lo è sempre stato fino alla fine alle volte non riescono a vivere bene le partite dove sembra che facciano poco in realtà sono collanti difensivi magari in quel momento rimbalzisti e soprattutto bisogna abituarsi al fatto che si può vivere una partita anonima ma magari cambiarla negli ultimi sette minuti come i grandi campioni ci hanno insegnato e segnare il tiro della vittoria magari cioè avere comunque la capacità di rimanere nella partita su questo lui sta lavorando tantissimo per crescere Matteo ti volevo chiedere da quale giocatore ti aspetti un passo avanti quale invece potrebbe osare di più allora io mi aspetto sicuramente dei passi avanti da parte di Beccallum e da parte anche di di Banford però inteso come e qui magari ci può dare una mano Maurizio inteso come produttività offensiva anche quando lo marcano molto stretto come nelle ultime giornate sempre praticamente praticamente sempre però lui del resto dovrebbe essere penso dovrebbe essere il nostro terminale principe offensivo e dovrebbe essere anche abituato quindi cioè io mi aspetto sicuramente una maggiore produzione anche offensiva da parte sua e chiaramente da parte di Beccallum ma anche una maggiore leadership quello sì sì anche io stiamo lavorando tanto sulla crescita di Beccallum di cui abbiamo bisogno perché deve farlo sono d'accordo con quello che dici di Banford aggiungo una cosa perché lui è veramente comunque da quel punto di vista un giocatore molto importante tiriamo via immediatamente la tripla caduta sulla stessa caviglia in tre partite consecutive così ci siamo messi via il lato sfiga e il lato problematico da un punto di vista proprio anche della continuità nella partita del martedì del mercoledì perché c'è un bel record è tre volte la stessa roba perché ma questo non è capita però la marcatura molto stretta lo stare lì sei sempre sai molto vicino però è anche altrettanto vero che dobbiamo maturare visto che lui comunque è un giocatore importante tecnicamente la nostra capacità di cercarlo per cui è chiaro che la qualità dei blocchi prima di tutto che noi dobbiamo in cui dobbiamo assolutamente crescere e possiamo farlo sia con i giocatori che stanno migliorando sia con un giocatore come Mochevicius che è portato a questo tipo di situazione quindi quel binomio lì può aiutare Scott nella ricerca del tiro e la seconda cosa la ricerca quando lui non ha la palla in mano come andarlo a cercare no? perché se no ovviamente le difese sono più più concentrate lo stiamo cercando di fare mi dispiace molto sai cosa che lui ha tirato per vincere a Brescia e ha preso la palla per vincere in un'altra partita dove poi sono successe altre cose però quello che da lui all'equilibrio alla squadra quello che da lui alla squadra come equilibrio è importante perché è un giocatore che migliora gli altri quando è assolutamente inserito bene quindi io mi auguro che possa esserlo ancora di più di così in modo che lo lo si vede anche produrre bene allora abbiamo lasciato il tempo al coach di dire le sue cose giustamente rispondere alle nostre domande sappiamo che da casa scalpitate che sicuramente avrete già scritto adesso andiamo da Giovanni però era giusto concederci un attimo un ritorno su quello che è successo la calma per spiegare alcune cose anche tecniche non solo motivazionali perché non è solo dicendo ah ci vuole più tigno si però bisogna anche sapere cosa fare poi in campo perché se uno è tignoso non basta a volte anche se a Pesaro amiamo questa parola però ci sono tante componenti in una partita Giovanni coach ci chiedono subito lo stato attuale di forma di Benford si sta riprendendo molto bene l'hanno visto bene ma come sta? allora l'hanno visto bene perché sta meglio però la condizione fisica di Benford non è la condizione fisica è caduto per tre volte consecutive sopra la caviglia di un altro in tre partite consecutive sempre la stessa e questa cosa qui non è un discorso di come dire di forma soltanto ma è di riprendersi da piccoli problemi capito quindi io non sono uno che in pre partita buongiorno a tutti domani c'è la partita lui si è fatto o dopo la partita lui si era fatto mi va di dirlo esclusivamente perché almeno i nostri tifosi la gente che ci segue può sapere che c'è un piccolo problema non dovuto a uno stato di forma che è un diverso modo di dire ma un inconveniente successo su tre caviglie avversarie ok perché McCullum in molte occasioni tiene la palla fino allo scadere dei 24 giusto perché noi dobbiamo migliorare nella qualità dei blocchi dobbiamo migliorare da lui insieme a lui nella ricerca della giocata giusta in quel momento se questo tifoso che scrive si riferisce all'ultima partita eravamo anche proprio fuori posizione perché noi abbiamo lavorato a battere determinate difese vincendo o perdendo con uomini posizionati in certi posti in certe posizioni domenica è saltato proprio voi avete visto come tante volte sembrava che non sapessimo bene alla fine come andare a chiudere no in realtà giravamo la testa dove lì doveva esserci uno e non c'era e questa è la cosa che più nel secondo tempo è per quello che ho provato a diciamo rimanere calmo con difficoltà dentro di me però è stato molto faticoso spero sia no so che è stata una parentesi e che e che quindi McCallum tante volte in extra dribble come si dice ci va anche un po' per quello non nascondo che è un suo piccolo difetto sì non so non saprei un sinonimo di difetto per usare un termine più carino però è una cosa che lui ha che deve un attimo perdere anche perché se la passa la riprende come dicevamo alla conferenza e se la riprende può fare assist cioè può lavorare per un tiro degli altri però pensavamo che a Milano questo qui l'avesse capito 10 assist abbiamo vinto a Milano ok però siamo in un campionato di un certo tipo quello italiano come spagnolo quello francese perché atleticamente nel momento in cui l'hai fatto una volta vengono a evitare che tu lo faccia due perché ti leggono la partita devi andare sopra cioè la volta dopo non puoi fare la stessa cosa perché il nostro campionato è tatticamente predisposto a giocare contro gli avversari e quindi bisogna anticipare un po' anche le mosse degli altri lui magari ci ha finito un po' dentro stavolta ancora Giovanni? sì allora ne abbiamo veramente tante quindi è il profilo giusto come plate per questa VL di quest'anno secondo lei? ma è il profilo è il nostro playmaker per cui deve assolutamente lavorare allora è un mix sai capire il campionato che stai giocando conoscere bene i compagni renderti conto di che tipo lui si sta sforzando anche di far giocare un po' la squadra rispetto alle sue corde quindi da quel punto di vista posso rispondere solo che dobbiamo lavorare molto 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 perché questa crescita può dare soddisfazione a lui e alla squadra posso fare una domanda Mccallum e Bumford come si trovano tecnicamente insieme? bene 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 anche perché comunque dei due uno attacca un po' di più il ferro che è Mccallum Bumford ha letture di gioco perché ha buona conoscenza molto buona Mccallum è più un passatore di rottura cioè penetra scarica attacca anzi dovrebbe farlo di più a tutto campo mentre Bumford è un giocatore che lo può fare a metà campo quindi da quel punto di vista si trovano si trovano sono leader ma possono convivere sì sì no sono leader in maniera differente ma ha le qualità di saltare l'uomo Mccallum cioè creare quindi un vantaggio come hai detto te per il pentere scarico noi l'anno scorso abbiamo visto un giocatore come Abdurrahman Mars che fino a gennaio che poi dopo diciamo è andato un po' incalando però fino a gennaio saltava l'uomo ed era uno dei giocatori più forti del campionato in questo e creava dei vantaggi clamorosi per i compagni lui non può battere l'uomo come lui non può battere l'uomo come Lobason che sta per arrivare domenica sicuramente lo può battere nel momento in cui gira palla e la palla si muove per così nel campo cioè occupando orizzontalmente la metà campo offensiva perché se noi giochiamo da un lato all'altro lui sui vantaggi della circolazione lo può battere perché va nel ritmo e allora ha più predisposizione e capacità da fermo è un po' più difficile Giorgio ci chiede ritiene che atleticamente siamo attrezzati per questa serie? Cosa intende per atleticamente? Nel senso che noi paghiamo un pochino di dazio in certi accompiamenti ma per fisicità per atletismo sì sono due termini che hanno delle piccole sfaccettature e delle piccole differenze comunque credo di interpretare cosa vuole dire nel senso che noi tante volte un po' di fatica dal punto di vista dell'accoppiamento fisico lo facciamo ma possiamo assolutamente competere con tigna organizzazione e capacità di difendere in cinque infatti lo abbiamo dimostrato fino a 16 minuti e mezzo di una domenica fa non è che non l'abbiamo dimostrato Cosa pensa del neoacquisto ci chiede Marco di Mokivicius Ok allora scusa Andrea puoi mettere se vuoi il video che riguarda Iggy così ne parliamo eccolo qua Prego Maurizio Allora lui ci dà queste fondamentalmente tre cose una profondità offensiva nel giocare l'area e la riga di fondo ci dà una buona propensione a rimbalzo che è una statistica che abbiamo visto deve migliorare ed è uno dei in questo momento giocatori che può darci una mano nella qualità dei blocchi per cui con lui possiamo anche permetterci di giocare di corsa in uscita dai blocchi con situazioni più dinamiche perché è un giocatore che ha questa attitudine ed è bravo anche dopo i blocchi a farsi trovare presente sugli scarichi la sua buona stazza anche difensivamente è presente e ha le caratteristiche che non avevamo senti potranno mai giocare insieme lui e Totè in qualche frangente? Sì secondo me sì in questo momento essere consistenti e mettere a posto ABC non ti fa fare cose in più che possiamo fare anche con Quincy Ford che possiamo fare con altri giocatori però io a me piace questa idea volevo fartela anche io questa domanda anche perché nell'intervista di Totè apparsa sulla gazzetta la settimana scorsa lui si è definito un alla grande sì però adesso sta facendo molto bene deve pensare a continuare così dopo ci penso io all'alla grande in effetti finché da centro va così gli conviene anche per andare in nazionale è quello il posto dove lui ce l'ha quella propensione l'ha avuta ne parliamo anche nella nostra primo incontro nella precedente squadra ce l'ha ce l'ha però in questo momento le cose non si possono fare perché uno prende e va in quella posizione un altro bisogna lavorarle con il vantaggio che lui è capace di farlo e Mochevicius è capace di farlo però in questo momento dobbiamo avere anche un'identità una gerarchia un po' più definita altrimenti non riusciamo ad avere la consistenza e l'identità di cui abbiamo bisogno per giocare questo campionato per soprattutto giocare partite come dobbiamo giocarle noi coltello tra i denti perché ogni due punti valgono quattro quando ti devi salvare non ripeto un'altra volta perché è un concetto deve essere molto chiaro certo tu Matteo condividi la scelta di Mochevicius dopo il taglio di Schilling secondo me con il poco tempo anche a disposizione è sicuramente una scelta condivisibile anche perché Mochevicius conosce l'ambiente conosce la squadra e la città e noi sappiamo benissimo quello che ci può dare penso io quando mi chiedono eh ma coach abbiamo preso eh bene per coprire i ruoli perché abbiamo Ford e Mazzola tra l'altro anche loro hanno delle abilità come Valerio da come si dice stretch five tecnicamente c'è un giocatore che può giocare anche ad aprire l'area nel ruolo me lo dicono lo sento lo capisco eh ma ero quattro e mezzo cinque meno meno sono perfettamente d'accordo perché la pallacanestro ha la bellezza di essere una uno sport che può aprire però credo che sia chiaro che alle volte si fanno anche le cose che sono necessarie e si possono fare giusto vado io un attimo vai domani coach quali pensi che siano le principali ragioni per le sconfitte costanti in casa questo pubblico speriamo che meriti un po' di più anche domenica contro Tortone no no per favore non mi dite che merita di più il pubblico perché già perdere quelle partite mi ha distrutto il cuore per cui il pubblico merita molto di più di quello che ha visto perché 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 sì perché l'avete visto perché è fantastico perché gli vorresti vincere tutte le partite e io non voglio che questo discorso entri troppo nella testa dobbiamo stare zitti perché abbiamo il tabù di perdere dobbiamo stare zitti perché abbiamo dobbiamo stare zitti l'abbiamo perso e dobbiamo essere immagino anche criticati perché come non si può però in questo momento noi dobbiamo andare in campo per vincere la partita dopodiché sarebbe bello poter gioire col proprio pubblico perché la si è vinta la cosa che ovviamente a noi passionalmente dispiace è vedere anche un pubblico che ti incita fino in fondo io poi quando veramente ve la dico come la penso sempre tra l'altro anche domenica voi ricordate benissimo partita un po' così noi ripartiamo nel terzo quarto abbiamo un piccolo sussulto siamo 48 a 54 erano tutti pronti tutti pronti noi non possiamo mancare di questo di questa cosa qua non possiamo assolutamente dobbiamo essere responsabili stiamo cercando di dirlo sempre continuamente però è bene che pensino alla palla canestro se no gli vengono mille pensieri ai giocatori tra l'altro io il giorno del debutto casalingo ti ho visto molto emozionato che guardavi la coreografia guardavi il pubblico perché è la tua prima volta comunque da allenatore di casa perché io ho sempre giocato qui da avversario e ho sempre guardato dall'altra parte ho vinto le partite ho sempre avuto un rapporto cordiale bello all'inizio e alla fine e quando guardavo da avversario dicevo wow quindi nel momento in cui tocca a me per primo sconcia ho avuto un momento ero felice nel senso quando lo visco la prima volta no perché ho guardato ho detto ragazzi ma cosa c'è di più bello che giocare davanti a questo tipo di atmosfera quindi ero emozionato perché ero io poi su una panchina anche così voglio dire importante da secoli scusa Coccio come mai durante le partite rimane così calmo e pacato non crede che una maggiore grinta di energia possa trasmettere ai giocatori maggior sicurezza allora guarda diciamo che gli intervalli sono stati meno sono stati un po' più complicati ho cercato di fare le cose non troppo plateali però ti assicuro che dipende cioè vuoi dire che dovevamo essere nello spogliatore all'intervallo no vabbè sono cose no no vabbè ma sono cose che però ti dico anche questo che l'indole sarebbe anche differente e tanto viene fuori però nelle ultime partite aggiustare le cose parlare con calma davanti a giocatori che stavano comunque avendo un impegno e volevano comunque piano piano è servito a recuperare 25 punti in 20 minuti e a vincere a Milano quando ci hanno rimontato quindi io questa volta che erano ancora più in difficoltà ho pensato che potesse essere una strada tra l'altro in un momento di piccolo scossone che si danno anche i giocatori perché non è che loro sono contenti non gli dispiace soffrono anche loro non è cambiato tantissimo proprio perché era una partita in cui non eravamo proprio entrati con l'approccio necessario duro la durezza necessaria per giocare quel tipo di partita io voglio fare una domanda coach noi l'anno scorso come decimo uomo avevamo Delfino che a volte entrava e a volte risolveva anche le partite quest'anno abbiamo Stazzonelli ci manca un giocatore di esperienza un decimo uomo nelle rotazioni di esperienza se ce l'avevi l'anno scorso e l'anno prima non lo puoi sempre avere tutti gli anni posso continuare Sì vai Giovanni Buonasera coach volevo sapere perché quando la squadra avversaria gioca a zona ci mette un po' in difficoltà Oddio ha giocato un'azione Milano e abbiamo fatto canestro da tre con Bluiet attaccando bene ha giocato Napoli a zona non ha giocato a zona ha cambiato difesa su alcune nostre situazioni sulle quali abbiamo provato ad aggiustarci e non ci siamo riusciti abbiamo anche tirato bene ma sbagliato e qualche volta perso palloni in quel caso noi secondo me per ovviare visto la difficoltà di quel giorno lì dovevamo proprio giocare altrimenti un pochino di fatica l'abbiamo fatta e lì secondo me per rispondere in maniera completa va migliorata la capacità di reazione alle cose che succedono anche un po' improvvise ecco sei d'accordo che quando Tambone non azzecca la serata la squadra soffre sembra lui il nostro metronomo quando Tambo gioca una buona partita di solito la squadra però mi hai già detto di McCallum di Banford è marcato no voglio dire per quello ti rispondo com'è importante il team perché giustamente McCallum così Banford è marcato Totè per quello Tambone qua e là perché è esatto è proprio così noi dobbiamo come squadra avere la capacità di essere solidi dopo il protagonista può cambiare sono d'accordo comunque perché noi non possiamo prescindere da Tambone assolutamente ok voglio portarvi un attimo sulle immagini dei ranking della Serie A per così alleggerire un po' la pressione sulla nostra squadra e chiedervi chi si candida maggiormente dopo sei giornate a essere la terza forza di questo campionato insieme a Bologna e Milano questi erano i pronostici di inizio stagione ne abbiamo visti ci davano insomma chi undicesimo chi quattordicesimo Andrea può escorrere anche gli altri chi ottavo come il nostro mitico Michele Zavagnini e poi se puoi andare sulla classifica così abbiamo un quadro più completo questa è la classifica dopo sei giornate per adesso questa terza forza potrebbe essere Venezia Brescia Trento Milano è rimasta un attimo indietro però chi potrebbe essere la terza forza del campionato ha chiesto a te Matteo allora sicuramente Brescia si è rinforzata tantissimo io non mi aspettavo una Venezia subito così impattante da subito Venezia ci aveva abituato a un campionato stile diesel con un andamento un po' lento increscendo però chiaramente ha cambiato l'allenatore ha cambiato anche l'impostazione di gioco Trento anche Trento è sicuramente una delle belle sorprese del campionato non me l'aspettavo assolutamente se devo dire qualcuno la terza forza scommetterei più su Brescia che mi sembra una squadra più quadrata Maurizio sono d'accordo Brescia si è rinforzata è lunghissima è coperta è quadrata tra l'altro con una competizione sola è molto concentrata anche su quell'aspetto è vero Venezia sono d'accordo con te anche perché ha una fisicità veramente importante che riesce a cambiare le partite cioè loro si vede che sono in work in progress quindi giocano in quel modo lì a un certo punto per portare a casa la partita la possono mettere su piani anche difensivamente importanti perché hanno atletismo e fisicità che possono coprire veramente molto bene e alzare in maniera incredibile la responsabilità individuale dal punto di vista difensivo e Trento lo stesso perché Trento ha una squadra che è lunga più lunga che ha coperto determinate situazioni e ruoli insomma anche a me piace molto in questo momento sono contento insomma che siano partiti in questo modo non voglio dire squadra delusione perché poi dopo questo video gira si offendono gli allenatori però dai una squadra che comunque finora ha sorpreso in negativo invece in negativo beh la classifica parla chiaro bisogna dire Brindisi che ha anche esonerato l'allenatore insomma due settimane fa una settimana fa e anche Treviso Treviso a questo proposito abbiamo visto oggi anche la Vittuccia ha fatto due danni ha lasciato Brindisi e poi ha Treviso tra l'altro sembra una buona squadra la Nutribullet sembra una buona squadra oggi è venuto fuori che hanno adesso non mi ricordo quale dirigente di Treviso Gioffre ha dichiarato ha dichiarato che il loro campionato inizierà l'ottava giornata contro di noi beh comunque da già per perse la settima l'ottava non gli fa molto onore questa cosa però io ti dico la parola delusione non riesco tanto alla quinta sesta giornata ma mica perché voglio perché vedo anche che comunque Brindisi ha avuto infortuni importanti su due ruoli importanti con giocatori forti e nuovi che Treviso ha una squadra la stessa cosa Sassari che è stata veramente martoriata e che vedi che poi lavorando lavorando ieri ha battuto il colpo in Coppa e questo potrebbe dare anche una fiducia la stessa cosa Treviso su questa cosa della nona giornata che dite non sono letto no niente Gioffre ha detto che il campionato loro comincerà la nona giornata contro di noi va bene prendiamo atto Giovanni abbiamo due domande per Matteo Matteo buonasera intanto e complimenti per tutto sono Lorenzo di Pesaro volevo un giudizio su Sportando pagina molto seguita dai tifosi pesaresi perché ogni anno ci considerate perspacciati meglio così perché due anni su due ranking di Sportando siamo andati ai playoff diretti due anni su due mi verrebbe da dire perché il ranking non lo faccio io però ormai la cabala io a me va bene che ci mettono sempre in fondo poi puntualmente addirittura facciamo i playoff degli ultimi anni quindi va benissimo così e l'altra domanda Matteo la VL secondo te potrà toglierci delle belle soddisfazioni nelle prossime partite? io lo spero io spero che sicuramente come ha detto anche Maurizio siamo alla quinta giornata è una squadra ancora in rodaggio una squadra ancora in rodaggio i ragazzi si devono conoscere si è inserito un giocatore nuovo adesso secondo me una volta che si amalgano bene tutti i ruoli imparano ancora di più a giocare assieme già giocano insieme abbiamo visto che negli assist siamo tra i primi però potremmo fare bene abbiamo sicuramente una squadra che può lottare per quelli che sono gli obiettivi dichiarati vorrei portarvi un attimo sulla prossima partita perché sono già le 22.06 il tempo è volato e dobbiamo ancora parlare della nostra prossima avversaria e manca poco ormai quindi Tortona sta faticando un pochino a ingranare in campionato hanno sei punti in classifica quanto influisce la prima partecipazione alle coppe secondo te Maurizio? guarda io penso che la partecipazione alle coppe sia molto bella tanto lo dico sempre lo sanno tutti come la penso anzi credo che possa dare anche la possibilità di lavorare durante la settimana sulle cose sulle proprie cose davanti in coppa poi tu sviluppi la tua identità porti il tuo basket poi se dobbiamo parlare del fatto che uno viaggia si stanca vabbè quello è un altro discorso io parlo tecnicamente quindi questa squadra qua con il nuovo assetto con delle nuove situazioni tecniche sicuramente anche loro però voglio dire adesso li guardo mentre sono in sovrimprie qui nelle immagini guarda il roster sì però guardo anche 77 a 47 85 a 55 anche loro hanno preso una bella botta guarda mi ricordo quando andammo a Milano no ci fu questa cosa anche dire hanno perso a Berlino voi avete perso avevamo tutti e due voglia di riscatto anche se erano due partite differenti penso che sia la stessa cosa anche perché Tortona non gioca in Coppa questa settimana quindi arriveremo tutti e due da un po' di delusione da un po' di rabbia sportiva per cui da quel punto di vista noi dobbiamo fare non uno sforzo un extra sforzo perché dobbiamo andare a ad affrontare un team comunque profondo costruito per terzi obiettivi che è noi lo vediamo lì con Brescia ma hanno vinto a Bursa hanno vinto in Coppa cioè non è che poi sono squadre che hanno perso partite sono squadre che hanno anche perso delle partite Matteo la perdita di Criston secondo te quanto ha inciso o pesa di più la rinuncia a JP Maciul l'abbiamo visto proprio a parti invertite cosa significa avere Criston dalla propria parte o non averlo poi chiaro come ha detto anche Maurizio è una squadra profondamente rinnovata nel roster rispetto all'anno scorso nonostante il coach sia sempre Ramondino quindi il sistema di gioco è sempre quello però devi farlo digerire a giocatori nuovi e non è facile nell'immediato sì ma poi c'erano delle certezze anche se è giusto che uno a un certo punto possa anche cambiare però un Tyler Kane che magari dava un po' di sicurezza o Maccura che sapeva già tra l'altro si è divertito a ripostare ho visto su Instagram la sconfitta è stato un po' polemico diciamo anche senza scrivere niente però come dire ha rituitato diciamo il punteggio più che altro a me mi fa spiegare che un giocatore come Maccura sia ancora free agent questa è una cosa che veramente mi suona strano perché è un giocatore di assoluto livello senti coach Tortona quali problematiche ci può dare secondo te quali sono le cose critiche che non ti voglio far svelare i piani no 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 beh loro hanno comunque noi dobbiamo fare un lavoro importante su tutti i loro esterni perché sono giocatori di perimetro sono giocatori di penetrazione sono giocatori che si innescano tra di loro quindi più giocatori sanno fare più cose hanno in certi ruoli un atletismo importante i loro lunghi giocano sia dentro l'area ma la possono aprire c'è questo il mid range che loro possono avere con Radosevic con Daum fino ai tre punti insomma quindi da quel punto di vista bisogna preparare la partita bisogna essere molto bravi nelle scelte che faremo e assumerci i rischi ma c'è come al solito una grande come dire deve esserci una grande attenzione personale individuale noi dobbiamo alzare questa responsabilità individuale nel giocato in modo che la difesa del team sia fatta di tutte le prestazioni individualmente prese ben fatte ok guardavo le prime tre partite voi avevate subito una media punti attorno ai 75 adesso attorno agli 85 quindi eravate sì adesso c'è anche il supplementare dipende poi cosa però è vero anche che noi abbiamo avuto e poi soprattutto al di là della terza difesa le quarte la quinta avevamo subito i punti che sapevamo dove sapevamo poter soffrire no quindi magari c'era una piccola fetta a rimbalzo tanto lì dobbiamo migliorare c'era una piccola fetta a indeterminati quello noi dobbiamo continuare a battere non possiamo come domenica scorsa subire da ogni dove altrimenti non come il secondo tempo Giovanni ancora domande? allora sicuramente bisognerà stare attenti a Wims e Baldasso ci dicono e coach perché avete deciso di puntare su McCallum liberando Davide Moretti? ma lì cioè non è sono giocatori bravi cioè se la domanda è chi mi piace chi mi piace mi piace sono bravi abbiamo fatto sono state fatte delle scelte che a 360 gradi e adesso dobbiamo essere concentrati sul playmaker che abbiamo e su quanto lui possa migliorare e aiutare la squadra e la squadra aiutare lui perché ha le qualità comunque per fare buone partite e soprattutto migliorare in questo momento non è che ha fatto cattive partite è stato un po' in up and down e come giustamente dicevi tu vogliamo che dia di più non parlerei di chi non gioca con noi ancora? bisognerà sicuramente cambiare l'atteggiamento e l'aspetto mentale per apportare a casa questi due punti la prima vittoria a casa Linga bisogna essere molto duri molto decisi molto convinti bisogna giocare quello come abbiamo sempre fatto e bisogna imparare visto che ogni partita comunque alla fine noi l'abbiamo sempre presa come una lezione per credo che dopo domenica la cosa che non può mancare non potrà mai mancare deve essere la capacità di andare oltre una cattiva partita oltre un sentirsi un attimo in difficoltà per non mollare mai questo non fa come dicevi tu soltanto la partita ma è un aspetto che non deve mai mancare in una squadra che lotta come dobbiamo lottare noi sappiamo che è presto ma si crede ancora nella qualificazione della Coppa Italia? io guarda penso molto partita per partita capisco che la squadra viene da eventi di questo tipo però per arrivare a certe cose bisogna è come se mi chiedi degli obiettivi so che dirti so che ogni giorno bisogna fare meglio ogni domenica provare a vincere dopo alla fine del giorno d'andata si fa un conto alla fine del giorno di torno si fa un altro poi di crederci ci si crede sempre a tutto sicuramente ci sarà secondo lei più spazio da dare a stazionelli? io me l'auguro spero perché è una roba che abbiamo in testa proprio per arrivare ad avere l'uomo come diceva esatto esatto perché è quello il discorso far maturare poi la possibilità di avere i giocatori che permettano a tutti gli altri di scalare costruirli quindi io me lo auguro in questo momento non ti nascondo anche una cosa che in certi momenti di difficoltà non è neanche giusto buttare a caso dei ragazzi che stanno crescendo in mezzo a partite troppo complicate non è neanche giusto nei loro confronti l'ultima domanda scusa Betta e Totè e Mokevicius potranno avere spazio dentro il campo assieme? le abbiamo già chiesto non siete attenti scusate perché no lui non è lui è attento è che lo vuole risentire dire un'altra volta però guarda io penso che siano due giocatori che ora in questo momento devono giocare per chiudere il reparto e per pensare tutti e due alle cose da fare nel ruolo di 5 e alle cose da fare per la squadra in modo che possiamo coprire 40 minuti sempre meglio non ti nascondo che tatticamente è una bella cosa allora respiriamo un attimo adesso apriamo l'album dei ricordi poi se ci sono altre domande le leggeremo prima di chiudere vogliamo come sempre dedicare due minuti a un giocatore che ha vestito la maglia della VL questa volta non siamo andati troppo indietro nel tempo però comunque sono già passati una decina d'anni da quando Juman Jones ha giocato a Pesaro nato a Cocoa Beach in Florida il 10 febbraio del 79 Juman Jones è stato protagonista di un'unica stagione in maglia biancorossa che resta però indimenticabile per i tifosi della VL conclusasi con il raggiungimento delle semifinali scudetto dopo un'epica serie nei quarti con Cantù terminata 3 a 2 con la ciliegina della Bella strappata sul parquet del Pianella grazie a quelli che coach Trinchieri definì oggetti volanti non identificati ovvero le sue bombe scagliate da distanze siderali scelto dagli Atlanta Hawks al draft dopo due sole anni di college Jumanjo Coin NBA dal 99 al 2007 vestendo fra le altre le maglie dei Celtics e dei Lakers a Prode in Italia per la prima volta a Napoli nel 2007 e quindi alla VL nella magica stagione 2011-2012 nella quale la squadra pesarese raggiunge anche le Final 8 di Coppa Italia fallendo per un soffio la conquista della finale annunciato il ritiro nell'estate del 2014 Jumanji ripensa e torna in campo a dicembre dello stesso anno con l'ingaggio in Messico da parte dei Titanicos de Leon con i quali arriva a disputare la finale per il titolo oggi organizza camp allena i giovani partecipa a conferenze per raccontare la sua esperienza e gioca a golf la sua lingua non ce la possiamo dimenticare in quella partita se eravamo a Cantù che eravamo a Cantù e non so coach se io me lo ricordo la fascetta bianca è indimenticabile la distanza era siderale davvero onestamente tante volte non potevi neanche dire alla difesa che era stata una voluta difesa adesso una l'abbiamo anche vista ma ce ne sono state altre non era neanche uno che ti diceva vabbè sei lontano no no gli stavano proprio addosso benché lontano e lui ha segnato lo stesso fantastico è un giocatore veramente che rimane nei ricordi e che abbiamo visto su Instagram comunque se volete seguirlo ci sono dei video anche molto belli dove lui va a raccontare la sua esperienza di sportivo quindi se vi interessa ancora seguire il personaggio ce l'avete allora Giovanni spariamo le ultime domande l'ultima domanda cosa non è andato nell'acquisto di Kevin Schilling Kevin Schilling richiudere in bellezza guarda cosa non è andato il giocatore ha avuto dei piccoli problemi fisici e dai piccoli problemi fisici se ne può uscire a meno che non inneschino tutta una serie di situazioni in quel momento non stare bene non aiuta al gioco non aiutare al gioco non aiuta la squadra lui era molto tranquillo cioè tranquillo nel senso si è reso conto che in questo momento è troppo importante ritornare a essere quello che era solo poco tempo fa e quindi è successo purtroppo e quindi io sono solo come dire fiducioso e seguendolo mi rendo conto che lo sta già facendo che torni mi auguro che torni anche prima che la stagione finisca perché rientrare prima che la stagione finisca potrebbe essere un bel messaggio per se stesso e per gli altri anche per noi di non aver preso a caso un giocatore no a caso non si prendono mai a caso non è successo così siccome tutti te l'avranno chiesto in miliardi anche a te ma anche a noi ma come si fa a prendere un giocatore così io dico possibile che delle persone il giocatore ha avuto delle stagioni buonissime che gli sono valse anche delle chiamate importanti anche se con minutaggi ridotti poteva ritornare a farlo ripeto queste situazioni qui gliene hanno innescato delle altre complicate spero che si capisca questo anche se non si entra troppo nel dettaglio e quindi l'importante ora è guarire ecco la cosa più importante è questa cosa e comunque voi avete preso un altro giocatore secondo te può aver inciso comunque il fatto di giocare senza uno degli strani beh un pochino sì perché insomma sai coprire 40 minuti poi purtroppo lui cioè sono successi anche sai quel rimbalzo quella palla che sono stati anche importanti però insomma non metterei la croce su un giocatore per due sconfitte per un possesso perché sarebbe anche ingiusto adesso però avremo dei blocchi la nostra la nostra più bella vittoria l'abbiamo giocata senza comunque proprio senza proprio lo straniero io ero lì a Milano ho fatto una mega trasferta poi sai io non so adesso ovviamente dico la mia la squadra per migliorare per crescere deve giocare tutte le partite quindi io tiro per vincere come a Brescia piuttosto che perdere non bene come è successo l'ultima domenica perché se la squadra tira per vincere vuol dire che è arrivata a tira per vincere possiamo ragionare anche su tutta la partita possiamo ragionare sui singoli rimbalzi sui singoli dettagli quindi secondo me alla fine capisco che alle volte resta il rammarico allora era meglio perdere di dieci no secondo me se si tira per vincere vincendo o no è sempre una buona cosa ma anche perché a mio parere tirare per vincere vuol dire che potevi aver portato via due punti da un campo dove non credo visto come sta giocando Brescia poi perché sai la prima giornata ancora i valori non erano definiti adesso Brescia ha dimostrato quello che vale quindi è stata una grande partita a maggior ragione Pesaro aveva sorpreso poi il calendario sai me l'hanno detto in tanti ma il calendario è il calendario non è che lo facciamo noi il calendario c'è queste squadre vanno affrontate mi si può dire che peccato tutte insieme mamma mia vero perché sai Tortona Brescia Milano Venezia però in realtà le devi affrontare quindi non è inutile parlare del calendario bisogna migliorare per competere sempre di più ma a proposito di questo Pesaro che vince con Milano Cremona che vince con Bologna Pistoia che vince delle partite che era considerato da molti una cenerentola si è livellato il campionato oppure siamo solo all'inizio ancora i valori si devono assestare allora siamo all'inizio e possono succedere queste cose nella continuità delle partite ci sono delle partite che tu senti in maniera particolare perché ti devi di giochi la salvezza ogni vittoria così vale 4 e vai veramente oltre ogni tipo di il campionato livellato allora è livellato verso l'alto sicuramente tra giocatori bravi budget importanti arrivi di un certo tipo ma si è anche un pochino spaccato perché i tronconi ci sono nel senso che la prima fascia è veramente una prima fascia poi può perdere la domenica perché la bellezza di questo sport è che poi braghetta corta palleggio e difesa e si possono annullare anche delle grandi differenze in una partita però in realtà da quel punto di vista si è livellato verso l'alto anche nella fascia media cioè la fascia media si è alzata verso la fascia medio alta e poi mi ricordo che all'inizio del campionato a proposito di pronostici tutti indicavano proprio Cremone e Pistoia come le maggiori indiziate a tornare da dove erano arrivate invece stanno dimostrando soprattutto Cremona che mi pare abbia il secondo attacco del campionato che insomma sono squadre fatte bene poi hanno la pazienza anche di cioè lo sanno che il campionato è quello quindi tu vai partita per partita poi loro hanno avuto dei buoni scontri hanno portato però via anche due punti pesanti come mentre le insomma alla fine tu sai che sarà la tua stagione e quindi ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni vittoria sconfitta è l'infa sulla quale andare avanti oltre a ovviamente come perdi o come vinci o i commenti a seguire adesso ti faccio una domanda da barra ma questi giocatori hanno capito dove sono arrivati te lo dico perché me lo chiedono a me ma hanno capito dove sono capitati sanno che giocano a Pesaro in un posto dove sono passati tanti campioni dove c'è una storia come se questo volesse intendere non un 100% di impegno a me non sembra però ti riporto e te la faccio io no no sull'impegno no io voglio dire glielo dico dal giorno 1 ma non di Carpegna dell'estate e noi tutti i giorni tutte le volte lo sanno tutti c'è un'anima italiana importante che lo sai lo dice loro lo stanno non è che non capiscono anche perché non manchiamo di dirlo però non ci mettiamo dentro l'impegno perché è sbagliato nel senso che non c'è mai stato un non impegno non c'è mai stato anche domenica abbiamo non siamo riusciti ad avere la tigna che tutti vogliono vedere per una difficoltà non c'è mancanza di impegno comunque è una cosa sulla quale noi battiamo tantissimo per cui è per quello che dispiace un po' perché davanti a questa cosa che mi dici tu c'è anche un sostegno del pubblico perché lo abbiamo visto anche nelle partite in casa insomma come normalmente è giusto ci siano delle critiche però tendenzialmente il desiderio di supportare la squadra è stato nettamente maggiore 5309 persone di media sono tanta roba sono tantissima roba la più alta mi sembra della serie A per due giornate Pesaro sia nella prima con Venezia che nell'ultima con Napoli è stato il primo pubblico della serie A Matteo te l'aspettavi questa rinascita anche della curva dopo insomma ci sono stati dieci anni in cui veramente si è lottato con il coltello tra i denti con squadre anche insomma con poca qualità perdendo sempre cioè ha resistito questo fuoco sotto la cenere e adesso si è rialimentato questo dimostra che la passione a Pesaro intanto è radicata è radicata ed è sicuramente il primo sport che c'è in città e questo purtroppo è indubitabile si ama la squadra si vede proprio si ama la squadra poi chiaramente le ultime due stagioni hanno probabilmente contribuito le ultime tre stagioni è vero hanno contribuito sicuramente a alimentare ancora di più questo fuoco che tu dicevi e adesso coach tocca a voi cercherlo vivo quindi ti ringraziamo tanto per la tua disponibilità ringrazio anche Matteo Fattori per aver partecipato ringrazio Giovanni che ha raccolto le domande anche Andrea Sabattini in regia noi ci vediamo abbiamo scusate ah giusto scusate mi ero dimenticata ok vai ricordiamo subito scusate è l'11 novembre in diretta facebook radio incontro Pesaro le 14.45 la conferenza stampa per la presentazione di Pesaro Tortona biglietti disponibili pro di sport online presso la biglietteria dalle 16.15 della Vitifrigo Arena il contest nella stagione 2016-17 contro Venezia e nella stagione 2017-2018 contro Milano il vincitore è Lorenzo va bene Lorenzo allora ha indovinato le due finali scudetto disputate da Maurizio Buscaglia con Trento purtroppo perse però due finali scudetto sono tanta roba poi consecutive quindi anche per questo penso che tu sei a Pesaro per quello che hai fatto anche nella tua carriera di bello con una piazza che non aveva mai giocato una finale scudetto e non l'ha più ancora rigiocata bene vi ringrazio per l'ascolto ci sentiamo giovedì prossimo sperando di raccontarvi belle cose buona settimana hai visto quante novità al Conade di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conade di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conade di Montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte più mi ci perdo più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così immutati ma sempre differenti pronti a rinnovarsi anzi a crescere proprio come noi cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo a presto a presto a presto a presto a presto Grazie.